Bellissimo buongiorno, stamattina vi presento lei, è un'altra macina che abbiamo nella collezione un po' diversa della Thompson perché qui abbiamo la possibilità di riempire due diversi caffè per esempio e con questi possiamo dire graderei macinare questo o lo chiudiamo o apriamo questo e diciamo graderei macinare quest'altro caffè qui avete l'opzione di poter vedere com'è grande il macinato, se lo volete più fino o più grande potete girare qui e così cambiate anche la macinatura quello che si deve ancora definire è in quale reparto deve cadere il caffè macinato, se in questo o se in questo e poi si inizia a girare era la parte sbagliata ecco qua dopo che avete macinato vi faccio vedere e qui dentro viene raccolto il caffè macinato ecco qua e poi la persona poteva questa paletta poteva riempire il caffè macinato per i clienti ecco qua poi naturalmente vi faccio le foto ma per oggi per questi giorni festivi vi do un a rivederci un po' diverso vi faccio sentire un disco che si chiama Coffee and Cake col gramofono e vi auguro una buona udizione e si parte a u a Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501